Inizia a recitare all'inizio del 1910 come giovane attrice drammatica, dotata di una buona voce. Viene scritturata anche in varie compagnie di operette. Dopo la prima guerra mondiale è in compagnia con Armando Falconi e successivamente con Aristide. Vaghetti, in quel periodo incontra un suo collega di lavoro Armando Migliari che poco dopo sposerà. Andando poi a formare con lui una compagnia teatrale. Nel 1930 è nella Compagnia del Teatro degli Arcimboldi di Milano diretta da Nera Grossi Carlini. Lavora accanto ad Anna Magnani, Rina Franchetti e Cesarina Gheraldi. All'inizio degli anni 30 viene scritturata dall'Eiar. Per esibirsi come cantante in alcuni spettacoli. Accompagnata dal maestro Tito Petralia. Una delle sue canzoni di maggior successo sarà Cosa hai fatto del mio cuore? Incisa anche su disco. Sempre nello stesso periodo partecipa a diverse commedie radiofoniche e radiodrammi. Il debutto nel cinema mutuo avviene nel 1914 diretta da Ubaldo Pitei nella pellicola Complice. Azzurro. Ma la sua attività davanti alla cineprese di pochi film sino ad apparizione del 1944. Insieme a Amedeo Nazari. È sorella dell'attrice Pina Menichelli. Una delle maggiori interpreti del cinema mutuo italiano.